ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi vi farò vedere il video finale della preparazione della lasagna vegetariana se volete vedere come ho preparato la besciamella oppure le verdure troverete il link giù nella descrizione oppure qui cliccate qui sopra ok andiamo gli ingredienti che ci servono per questa ricetta sono i funghi e piselli che abbiamo preparato prima 250 grammi di mozzarella un litro di besciamella 30 grammi di parmigiano 10 sfoglie di lasagna e una pirofila adesso prendiamo la besciamella e mettiamola alla base della pirofila dopo aver messo la besciamella mettiamo due sfoglie di lasagna se avete comprato delle lasagne che sono più grandi tagliate a seconda della grandezza della pirofila adesso mettiamo di nuovo uno strato di besciamella prendiamo i funghi e piselli e cospargiamola sopra la besciamella e adesso mettiamo sopra la mozzarella che abbiamo tagliato a dadini dopo che abbiamo messo la mozzarella mettiamo sopra il parmigiano in questo modo e adesso ripetiamo per altri quattro strati così che avremo in totale cinque strati di lasagna besciamella e tutto dopo che abbiamo finito i cinque strati cospargiamo sopra con abbondante parmigiano nel frattempo che preparavo avevo già preacceso il forno a 180 gradi per 10 minuti e adesso andiamo a metterlo nel forno sempre a 180 gradi per mezz'ora e così la nostra lasagna vegetariana è pronta spero che vi piaccia se vi è piaciuta la ricetta condividete e iscrivetevi al mio canale ciao ciao ciao